Il vincitore dello scorso contest ve lo dirò a fine di questo video Ebbene a tutti ragazzi qui ci sono oggi, tornati in questo nuovo video e oggi siamo tornati di nuovo su Fortnite Oggi raga andremo a fare un nuovo contest da 25€ Ragazzi nello scorso contest non immaginate quanta gente non ha fatto il procedimento di taggarmi su Instagram E a quella gente ragazzi non l'ha aggiunta appunto nel contest Quindi ragazzi fate tutti i procedimenti e ora passiamo ai procedimenti di questo nuovo contest Il primo procedimento è quello di lasciare like a questo video Il secondo procedimento è quello di attivare la campanella delle notifiche sul mio canale YouTube Il terzo procedimento è quello di seguirmi sul mio profilo Twitch Vi lascio il link nel primo commento oppure in descrizione Ovviamente però bisogna attivare la campanella sul mio canale Twitch Il quarto procedimento è quello di seguirmi sul mio profilo Instagram E quando mi avete seguito ragazzi dovete anche taggarmi in una storia parlando appunto del mio contest di seguirmi Questo procedimento è molto importante quindi taggatemi nelle storie di Instagram Il quinto procedimento è quello di scrivere hashtag VBucks qui sotto nei commenti Poi ragazzi come ogni contest che abbiamo fatto anche in questo contest ci sarà un procedimento extra In pratica consiste nel condividere il video con dei propri amici E far commentare appunto i propri amici qui sotto nei commenti dicendo da chi è stato mandato il video Così la persona che ha condiviso il link con il proprio amico avrà più percentuale di vittoria E infatti questo procedimento serve solo ad aumentare la percentuale Quindi ragazzi questo video finisce qui Io spero che vi sia piaciuto Noi ci vediamo al prossimo video Lasciate un bel like e sfatete tutti i procedimenti Anche se ne mancherà solo uno ragazzi non sarete inseriti Noi ci vediamo al prossimo video